appena tornata dall'addio al nubilato della sorella cecilia in andalusia belen rodriguez non ha perso tempo l'argentina 39 n si è subito concessa una gita in francia corta con alcuni amici ma non solo la showgirl ha portato con sé anche il suo nuovo presunto fidanzato angelo i due sono stati paparazzati mano nella mano da chi che li mette in copertina belen e angelo edoardo galvani 34 anni ingegnere esperto di tecnologie sostenibili hanno alloggiato nel 5 stelle albereta relè chateau dove lei era già stata tante volte con l'ex elio lorenzoni e diventato un posto del cuore della rodriguez belen e angelo non si sono mai persi di vista anche in gruppo con la coppia billy berlusconi figlio di paolo e la moglie matilde bruzzone abitino semplice a quadri per l'ex moglie di stefano de martino e sotto sandali bassi infradito sportivissimo angelo con camicia blu in lino e sotto pantaloni sportivi in testa un cappellino con visiera per ripararsi dal sole angelo edoardo scrive il settimanale per il momento non ha sbagliato una mossa timido e riservato ma sicuro di sé pacato ed equilibrato non ha mai fatto un posto una confidenza agli amici sul legame con belen si è semplicemente dedicato a lei ha fatto alcuni piccoli viaggi sempre con amici quasi a ricreare un clima familiare lui piace molto anche ai coniugi rodriguez e sappiamo quanto conti il punto di vista e l'intuito di mamma veronica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti